Sulla Madonna del Parto a Fresco di Piero della Francesca è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che chiude la querelle tra Comune di Monterchi e Ministero dei Beni Culturali che andava avanti da oltre 30 anni. Di fatto la sentenza stabilisce che l'opera è inscindibile dalla prima sede, ovvero la chiesa di Santa Maria Momentana. Adesso l'opera si trova invece nella ex scuola elementare di Via della Reglia, in un piccolo museo di proprietà comunale. È lì dal 1992, anno in cui venne spostata per consentire il restauro conservativo del capolavoro di Piero della Francesca. La Madonna del Parto è di proprietà del Comune di Monterchi. Altro fatto importante, il luogo di Santa Maria Momentana, quindi la cappella, è di proprietà del Comune di Monterchi. Quindi noi pensiamo che non sia possibile fare alcunché senza un accordo con questa comunità. Quindi questa è una posizione che noi porteremo fino in fondo. Quindi poi noi facciamo un appello anche alla politica che riprenda in mano il suo ruolo e che anche su questi temi molto importanti e delicati dica la sua e non faccia prendere decisioni a dei burocrati romani o alle carte bollate. Quindi è un fatto politico che va gestito anche dalla politica. L'opera venne effettivamente affrescata dal maestro della luce a metà del XV secolo nella cappella di Santa Maria Momentana. L'edificio fu poi demolito nel 1785 dalla comunità di Monterchi per costruirvi un cimitero. Immaginiamoci la Madonna del Parto, simbolo della fertilità, della maternità, della vita, dentro a un cimitero. Qui ci vuole solo qualcuno a Roma che credo sia fuori dal mondo per concepire e stabilire una cosa di questo genere.